Sin dai tempi degli egizi, negli ambienti di lavoro c'è chi mira a far carriera con la sua linguetta d'oro il suo fare strapotente e il suo modo un po' spicciante è il lavoro dell'omino che roma in tutto il mondo chiamano le chino dal politico potente al tremendo dirigente si fa spazio tra la gente col suo fare accomodante mi saluta cordialmente con la lingua pensolante è il lavoro dell'omino che roma in tutto il mondo chiamano le chino la lingua pensolante vuole fare il consulente sempre pronto e competente con lo sguardo un po' saccente dà consigli alla gente ma se c'è da lavorare lui non sa che cosa fare tira fuori il suo linguino che ormai tutti sanno l'arma dell'elchino è un lavoro faticoso è un lavoro dell'elchino sempre in guardia e in ginocchio assomiglia ad un cecchino quando appare il dirigente sapete che fa mette fuori la sua lingua e le tira un campan dai balliamo la mazzurca la mazzurca dell'elchino che ci fa ballare insieme fino al mattino e se siete un po' annoiati basta fare un bel linchino e provare ad ammirare tutti quanti ancora il gesto dell'elchino sta simpatica mazzurca io la voglio dedicare a chi ha sempre poca voglia di lavorare basta avere la linguetta e le carpino al mattino e vedrai che in tutto il mondo di sicuro anche tu sarai un lecchino e vedrai che in tutto il mondo di sicuro anche tu sarai un lecchino hehehehehehe